allora adesso facciamo di nuovo una prova con i pannelli messi in serie e se il diodo messo tra i due pannelli aiuta o meno quando uno dei due pannelli per l'ombra c'è la stessa prova con il regolatore un po stupido e il vicron questo qua il problema con questo regolatore che non ti fa vedere l'amperaggio con cui carica mi collego ai cavi rilevo sempre 0 ampere non capisco bene come si comporta all'altra parte è un regolatore da dieta 15 euro che posso aspettare di meglio apparentemente va in carica perché sta a 12,6 no non si capisce che adesso montiamo il vicron al posto suo e vediamo che da qui si rilevano tante informazioni sia dello stato della corrente che scende dai pannelli e quella che lui poi fa uscire manda in batteria si vede nel dettaglio ho collegato il vicron adesso faccio una prova rimetto i pannelli in parallelo per verificare la differenza tra parallelo e serie e perché spesso è meglio andare con i pannelli messi in serie piuttosto che in parallelo dipende poi dalle situazioni come detto è sempre la scelta migliore in questo modo collegato in parallelo il voltaggio non si somma ma si somma l'amperaggio che è la parte più problematica che succede allora il voltaggio è di qui in 16 volt l'amperaggio che esce dai pannelli è di 7 ampere e in batteria poi ne scendono uno ne converte riesce a convertire un più ne ricava un ampere in più 8 ampere circa 13 ore però sti pannelli arrivano fino a 170 180 watt che significa addirittura 12 13 ampere che cominciano ad essere importanti per i cavi adesso li metto in serie e vediamo quello che cambia collegati in serie i pannelli le cose cambiano di molto in serie si di somma il montaggio quindi i pannelli salgono a 32 quasi 33 volt l'amperaggio che scende dal cavo dei pannelli quindi quello lungo che passa dal tetto fino a scendere al regolatore che è posizionato di sabone del camper sono solo 3 ampere molto bassi al contrario dei 7 8 di prima a parità di vattaggio di produzione questo che vuol dire che sulla calata di pannelli ho un basso amperaggio e solamente da qui a qui io ho i 7 8 ampere o i 10 13 ampere quando vanno in massima produzione quindi ho solo un tratto molto corto di cavo e lì c'ho molti meno problemi di sezione per cavo un'altra verifica che voglio fare è se in serie il diodo tra i due pannelli serve realmente a qualcosa a gestire meglio quando uno dei due pannelli va in ombra questi pannelli montano già di loro due diodi che servirebbero a gestire già di per sé ombreggiamenti parziali del pannello e quindi di fatto non so quanto sia necessario poi possa essere controproducente poi aggiungere anche un altro diodo tra i due pannelli stessi come sempre se qualcuno ne sa di più ciò sempre da imparare quindi adesso abbiamo la produzione dei 110 circa watt siamo senza diodo io faccio l'ombra parziale potrei essere un ramo e qui che succede scendiamo esattamente alla metà quindi l'intero pannello viene perso continua la produzione ma un intero pannello anche quando c'è ombra parziale perso adesso voglio vedere se con il diodo di mezzo tra i due pannelli cambia qualcosa diodo tra i due pannelli adesso faccio metto la mano nella stessa identica posizione di prima non mi pare di vedere differenze con o senza diodo apparentemente peggiora l'arrivazione ma in realtà anche da altre prove che ho fatto prima quando non riprendevo sostanzialmente l'intero pannello viene perso non cambia con o senza diodo tolgo la mano e la produzione riprende apparentemente apparentemente il diodo apparentemente il diodo tra i due pannelli non fa differenza quando c'è ombra parziale io ho fatto anche delle prove empiriche mettendo il diodo sulle altre su queste altre due connessioni ma non cambia granché risultati almeno su un impianto così piccolo non fa differenza c'è sempre da imparare magari sbaglio qualcosa se qualcuno ne dà di più qualche consiglio un più da dare per vedere a un talaresa un ombra parziale magari se lo scrivete per ascolto poi perdo tempo a altre crisi allora voglio fare anche un'altra verifica un po come san tommaso cioè vedere quanto la lunghezza dei cavi influisce sulla carica della batteria quindi ho messo dal vittron questi due cavi 10 metri di cavi da 4 mm prima di arrivare in batteria questi sono i 10 metri di cavo stesi che arrivano in batteria partendo all'inverte e questo è quello che succede un leggero calo c'è dai 112 watt siamo ai 106 e solo solo 7 ampere considerando da i pernelli sono essi in serie adesso sempre che tra un po voglio vedere se su questi 10 metri di cavo da 4 millimetri 8 ampere circa se scaldano se generano calore non sembra per adesso voglio aumentare al massimo la produzione quindi ho messi esposti basi perpendicolari al sole sono sediti a 118 watt e vanno in batteria una produzione adesso di 130 watt ma che succede se metto un carico se accendo il famoso phone sale anche la richiesta dai pannelli che arriva a 170 watt quindi 11 ampere in batteria 11 ampere che passano su 10 metri di cavo a 4 millimetri circa un quarto l'ora che sottiamo 36 ampere dalla batteria e dai pannelli scendono 12 ampere su 10 metri di cavo almeno sarebbero anche un po di più e non mi sono messo a migliorare questa è una prova non prendete è una prova poi ognuno fa le sue scelte a me era una curiosità per capire dato che non so che cavi passano dentro il camper mio so che adesso ci sono dei pannelli che mandano a fatica 5 ampere arrivano non dovrei poter ripassare il cavo non lo so devo ancora decidere però di fatto niente da roba neanche qui neanche su queste giunture qui fatte artigianali a volo neanche qui per sviluppare lavoro ripeto e fatica a invertere 36 watt la ventola ripeto non prendete ripetimenti è solo una prova così in più che è una curiosità mia